Ma questo è solo previsioni, non sappiamo niente per il momento, abbiamo 79 punti, noi vogliamo andare a prendere i 3 punti sabato e dopo vedremo, ci saranno ancora 4 partite per fare il massimo per il momento, non sappiamo neanche la classifica finale di questo campionato, anche se la Juve è al posto più gradevole, non so come si dice, capite tutti e vedremo, vedremo partita dopo partita, allora appuntamento sabato alle 22, qualcosa, 50. Grazie, buongiorno, io volevo chiederle come sta Romagnoli e poi una cosa sul Dodò, domani...